Passione, amore per questo lavoro, è difficile, sono 365 giorni. Però è una vita fatta di rinunce. Eh, lo so, però pure di soddisfazioni, sono tante le soddisfazioni, sono tante, tante, tante le soddisfazioni, almeno per me e Maria penso che sono tantissime. È volato via all'età di 48 anni Daniele Berlingeri, il popolare pastore molissano, è stato stroncato da un infarto. La sua scomparsa ha provocato dolore e sconcerto in tutto il Molise. In lacrime anche i pastori della nostra provincia, dove Daniele era molto apprezzato e stimato, soprattutto quando nell'aprile scorso, dopo aver appreso della strage di pecore, avvenuta nel giorno di Pasqua a Mercogliano ai danni di Antonio Valente, non conoscendo nemmeno il pastore irpino, si rese disponibile per offrirgli alcuni capi del suo greggio. In passato, raccontava i lupi, hanno ucciso gran parte delle mie pecore, su cosa significa per un pastore perdere gli animali tenuti su con tanti sacrifici e amore. È come togliere la vita a noi, è un mestiere difficile, il nostro, ma è più bello del mondo, quando diventa una vocazione, aggiungeva orgoglioso il titolare dell'azienda cassiaria La Pecorella Nera. Stare a contatto con la natura, condividerne il fascino con tutte le sue creature, è una sensazione che non tutti possono provare, rivelava Daniele, testimone autentico di un mondo antico che riusciva come pochi, nonostante la sua ancora giovane età, insieme alla compagna Maria, davvero custode della memoria a trasmettere il fascino di riti e tradizioni legate alla sua attività, come la transumanza e il pascolo sul Matese. I due comuni, cari al pastore, dal grande cuore, Macchia Godena e Roccamandolfi, nel giorno dell'addio hanno proclamato il lutto cittadino. Il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, ha parlato dei sentimenti di Daniele e aver appreso da lui la passione incondizionata e smisurata per il proprio lavoro, l'orgoglio di credere maledettamente in quello che si fa. La fortuna e la forza di vivere, proprio così come voleva, in un mondo di omologati, non è cosa da poco. Ora ha giunto il primo cittadino, immagino Daniele, tra le montagne a Pascolare e il suo bel greggio. La famiglia Valente, da Mercogliano, si dice affranta della tragica notizia, l'abbraccio dai monti del Partenio al Molise, per stringere d'affetto i cari del pastore, da grande cuore.